Calceranica Ozzolo Maddalene Nel derby tra Trentine le padroni di casa sembrano sfavorite, mentre le ospiti sono in crescita e cercano i tre punti. Per il Calceranica però anche il pareggio sarebbe ben accolto e muoverebbe la classifica. Ozzolo Maddalene è costretto a fare punti contro un Calceranica che in questa stagione è davvero sempre stato in difficoltà, con soli due punti fatti finora a causa di due pareggi in 17 incontri fin qua disputati. Subito gol dopo appena due minuti dell'Ozzolo grazie agli errori della retroguarda del Calceranica, con Ferlini, che legge male la traiettoria del pallone e deposita nella propria porta. Al quattordicesimo Calceranica che trova il pareggio, grazie all'assolo di Divina che scarta l'estremo difensore avversario e deposita in rete. Ma subito un minuto più tardi l'Ozzolo ritrova il vantaggio, con Erlicker che approfitta di un altro errore difensivo e Scaraventa in porta al pallone. Nel proseguo del primo tempo entrambe le squadre hanno diverse possibilità per segnare ancora, ma grazie ai portieri e scarsa freddezza dei terminali offensivi la prima frazione termina sul 2-1. Parte bene il Calceranica nel secondo tempo, ma l'occasione più ghiotta, in avvio, è sui piedi di Werber dell'Ozzolo, che manca di poco il bersaglio grosso. Ma pochi minuti più tardi l'Ozzolo con un pallone gettato in area, più o meno da metà campo, trova il gol del KO, con il numero 10 corva. Il secondo gol di Divina è un gol davvero splendido, con una punizione che sfiora la barriera, bacia il palo e si insacca alle spalle di Giacomelli. Grazie a tutti.